Ti serve altro per trovare l'ascia a Mistios? Chi è questo pesce spada su cui vuoi fare colpo? Mi ucciderà se te lo dico! Io ti ucciderò se non lo farai! Pesce spada controlla da sempre il mercato del pesce con il pugno di ferro Pretende dei soldi dai pescatori e chi non paga finisce in pasto agli squali Dimmi come trovare pesce spada Non so dove sia, nessuno lo vede da anni Mistios Alcuni pensano che sia morto Ma proprio la scorsa settimana dei pescatori hanno detto che avrebbero smesso di pagare un uomo morto Indovina chi è morto ora? Correrò i miei rischi, dov'è? Un tempo viveva al faro del pescatore a nord Potresti provare a cercare lì? Quest'ascia frutterebbe un bel gruzzolo alla Gorè No, non puoi venderla! Dammela, ti pagherò! Prendi tutte le drachme che ho! L'ascia ti spetta di diritto Tienila Mi hai fatto preoccupare, Mistios Grazie, ti davo la vita Grazie per averci riportato l'ascia cerimoniale